in questo video oddio oddio e questo chi è? ma chi è questo? ha il volante della barca ma chi è? dov'è che sei che ti tiro una sverzata fulminante che te la ricordi? dov'è che sei? POM! fulminato! baraga e benvenuti in questo nuovo orribile video oggi signori miei siamo qui per ritentare la fuga da granny capitolo 2 nell'ultimo video eravamo quasi riusciti a scappare con l'elicottero se non fosse che il gioco si è buggato in una maniera incredibile quindi chissà che magari questa volta riusciamo nell'impresa comunque non vi faccio perdere altro tempo e ci si becca nel gameplay buona visione e vi do il benvenuto nella catapecchia incredibilmente lercia di granny e grandpa dopo essere riusciti a scappare su granny 3 nell'ultimo video oggi signori mi sento particolarmente abile e so che riusciremo a scappare anche da questo orribile giocaccio ah piccola parentesi se vi siete persi l'ultimo video di granny 3 mi raccomando andatevelo a recuperare perché abbiamo fatto una fuga veramente memorabile comunque in questo gioco tutto ciò che mi ricordo è che per fortuna il nonno non ha il fucile però il problema è che qua se non abbiamo un'arma siamo praticamente fritti abbiamo trovato lo scotch molto interessante vediamo di munirci di un'arma in modo da poterci difendere autodifesa personale auto 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 un cazzo mi sta per ammazzare mi ha ammazzato di già ma mi ha ammazzato di già questo gioco fa schifo è incredibile questo gioco secondo me signori è il più difficile di tutti e tre i capitoli di granny è una cosa assurda spero di trovare subito il taser e di poterli fulminare con una scossa da 400 miliardi di watt perché veramente altrimenti non ne usciamo vivi da questa situazione infatti c'è già granny stronza che ci insegue lo sgorbio malato non si sa dov'è ok sappiamo già dove si trovano due pezzi di quadro quindi potrebbe essere che riusciamo ad aprire la porta dell'elicottero mi scusi signora granny poligonale potrebbe gentilmente spostarsi oh te ne vai dai ma dai ma dai è incredibile signori questo gioco è troppo bagato questo gioco fa troppo schifo fa troppo schifo ma come cazzo si fa partorire un gioco così schifoso così fatto male dai ma il taser dov'è forse qua no forse qua no vedo la chiave dell'elicottero abbiamo lo scotch sbuffo perché non ho altre parole per descrivere questa situazione signori suoniamo il piano magari porta fortuna e invece non porta fortuna porta solo granny oh zio oh dio mio ma cosa fanno ma convergono tutti nello stesso punto vanno tutti a guardare la stessa cosa chiave della barca chiave della barca signori no niente abbiamo più pezzi dell'elicottero che della barca dai ma perché ma perché ma perché oh se c'è granny di qua veramente mi incazzo come una bestia signori eh non c'è ok abbiamo trovato il crew bar dai ma veramente ma veramente fai ma seriamente no no nonno stronzo il sergente il pezzo di merda esplodete esplodete tutti e due esplodete esplodete dovete esplodere dai la candela la candela la candela la candela mi serve il taser non la candela ma dov'è oh si di boh c'ha una voce polmonare che di boh sembra che sta per esplodergli un bronchiolo da un momento all'altro come cazzo fare stare in vita sto imbecille onestamente non so come ho fatto a dribblarlo no ma seriamente ma a parte gli scherzi ma signori miei ma dove cazzo è il taser eccolo eccolo no non posso non posso prenderlo adesso se no mi tira una sverzata il nonno ma sono in seguimento da tre quarti d'ora ma la vuoi smettere di inseguirmi ma guardate quella ma guardala ma guardala ma mette giù la tagliola proprio lì dove devo andare io ma sto gioco l'hai fatto apposta per farmi perdere ora adesso madonna mia madonna guarda madonna mia guarda come mi vendico guarda come mi vendico dov'è che sei che ti tiro una sverzata fulminante che te la ricordi dov'è che sei pom fulminato fulminato nella merda guarda due tagliole una dietro l'altra ma guarda come sei conciato pom fulminata anche te fulminati tutti e due ok 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 con il taser sappiamo che la situazione in questo gioco si ribalta vertiginosamente signori miei vertiginosamente molto interessante questa è la la maniglia della porta principale potrebbe essere che riusciamo a scappare dalla porta principale abbiamo il piede di porco abbiamo la maniglia abbiamo le tenaglie abbiamo praticamente tutto per scappare dalla porta principale weapon key weapon key weapon key andiamo a prendere il fucile signori andiamo a prendere il fucile io devo ancora capire cosa si trova in questa stanza andiamo a prendere il fucile e scopriamolo ho la gola secca sono agitatissimo ok doppio colpo doppio colpo per sparare in testa a tutti e due allora signori miei se non sbaglio se non sbaglio per aprire questa situazione basta sparare qui ok a questo punto lascio momentaneamente il fucile lì e vado a prendere le tenaglie scopriamo cosa si cela dentro quell'armadietto ma sai che ti dico visto che ho le tenaglie io tolgo anche la corrente ok situazione particolarmente vantaggiosa incredibile sto per scoprire che cosa si cela dentro questo armadietto oddio oddio e questo chi è? ma chi è questo? ha il volante della barca ma chi è? ma questo chi è? ma da dove è sbucato fuori? ma cos'era? una specie di vampiro bianchissimo bruttissimo comunque la musichetta che abbiamo appena sentito mi fa pensare che il nonno sia respawnato quindi andiamogli a sparare nuovamente perché è tutto ciò che si merita pom pom tutti e due tutti e due padlockay potremmo scappare con la barca potremmo effettivamente scappare con la barca ok ragioniamo un attimo abbiamo imparato a guidare l'elicottero andiamo a svuotare l'acqua di fuori e poi spariamo pure a quella merda per vedere che cosa contiene nel suo vialetto sporco allora prendiamo due piccioni con una fava e andiamo a portare anche la fotografia di sopra e poi successivamente torniamo giù con il fucile a pompa per sparare a quello sgorbio terribile terrificante malefico che si trova nel cortile di questa casa perfetto l'oggetto che nasconde quello sgorbio terrificante che si trova nel cortile potrebbe essere determinante su quale fuga noi andremo successivamente a fare perché se ha la gasolina potremmo tentare una fuga con la barca se ha la ruota per aprire la porta principale potremmo tentare una fuga dalla porta principale coglione oh c'è slendrina è comparsa slendrina un po' mi mancava safe key effettivamente non sappiamo che cosa si nasconde nella safe io direi di andarlo a scoprire in questo esatto momento signori gasoline 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 ok signori ok scappiamo con la barca a questo punto scappiamo con la barca per forza per forza scappiamo con la barca abbiamo quasi tutto della barca anzi abbiamo tutto della barca dai versa più velocemente sta benzina che non ho tutto il giorno per aspettare te allora a questo punto qua abbiamo lo spark plug perfetto andiamolo a mettere andiamo a mettere subito lo spark plug ci manca il volante e la chiave della barca e poi possiamo scappare la fuga è nostra la fuga è nelle nostre mani la libertà attende solo noi oh ma santa mia di questo passo non otterremo la libertà perché se continuano a tirarci gli schiaffi questi grandissimi stronzi non riusciremo a fare niente ma se io provo a fare una cosa io ci provo sta arrivando sta arrivando sta arrivando tutti e due stanno arrivando oddio oddio potrebbe essere il miracolo no non è il miracolo perché il nonno viene di qua dai ma cosa fai ma perché vieni qua ultimo giorno signori ultimo giorno questa volta ci dobbiamo riuscire quindi andiamo subito a prendere il fucile o il taser o una delle due cose perché se no non sopravviviamo dov'è la nonna dove siete bastardi eccola ok adesso ci manca solo da fulminare il nonno mi avete insegnato che il nonno arriva appena fulminiamo la nonna e però non sta arrivando dov'è il sargente dov'è il caporale eccolo dov'è il caporale pezzo di merda pezzo di merda sei inciampato su tua moglie morta guarda come sei conciato guarda veramente vergognati di esistere seduto su sua moglie morta questa è la fine che ti meriti allora andiamo a prendere il volante della barca che si trova di sopra dove è comparso quella sottospecie di vampiro quella schifezza che onestamente non ho capito chi è non ho capito da dove arriva non ho capito cosa ci fa in questo gioco non ho capito perché esiste aspettate un attimo aspettate un attimo aspettate un attimo direi che è molto più veloce scappare dalla porta principale ma è estremamente più veloce scappare dalla porta principale abbiamo tutto abbiamo letteralmente tutto ci manca solo la maniglia ma la maniglia lo sappiamo perfettamente dov'è ah potremmo scappare dalla porta principale signori la maniglia andiamo subito a prendere la maniglia andiamo istantaneamente a prendere la maniglia e andiamocene cosa stiamo aspettando cosa ci facciamo ancora qua eccola ecco la maniglia ecco la maniglia i nonni sono morti quindi non dovrebbero interferire con la mia fuga i nonni non dovrebbero interferire con la mia fuga dov'è la porta dov'è la porta c'è anche la padlockay no cazzo dov'è la padlockay dov'era non me lo ricordo più non mi ricordo dov'è la padlockay no signori di questo passo non è una bella situazione se respawnano questi mi fanno il culo potrei non riuscire sono respawnati e io vi uccido un'altra volta dov'è il nonno dov'è il nonno dai nonno vieni fuori vieni fuori se hai il coraggio vieni ti sfido ti sfido a uscire fuori se hai il coraggio ma forse non è ancora respawnato non è ancora respawnato non è respawnato vabbè no dai ma no ma non ci posso credere ma non posso entrare non posso entrare dai ma sto gioco veramente è un bug fatto al videogioco non ci posso credere ma veramente ma con cosa l'avete fatto sto gioco e anche con i piedi con le unghie dei piedi con i talloni l'avete fatto il volante il volante il volante lanciamo il volante di sotto dov'era la padlock io non me lo ricordo dov'è la padlock dove l'ho trovata scendo di qua dai dov'è quel bastardo ma guarda come si muove tutto che si è cacato addosso avrà appena finito di fare la sua cacata giornaliera allora abbiamo un po' di tempo a sto punto apriamo anche di sopra dove c'è l'elicottero no potrebbe potrebbe venire fuori una fuga epica potrebbe venire una fuga più di epica no signori potrei tentare di fuggire con tutte e tre le escape in una sola partita potrei tentare la sorte potrei tentare veramente no signori ci devo riuscire ci devo riuscire ci devo riuscire padlockay ok padlockay padlockay andiamo prima nella barca apriamo quella sottospecie di coso che apre il cancello della barca successivamente saliamo di sopra e apriamo il padlock della porta ok il cancello si è aperto andiamo ad aprire il padlock della porta principale così una fuga ce la siamo assicurata no non ce la siamo assicurata finchè ci sono loro non ce la siamo per niente assicurata che schifo di situazione dove ho lasciato il fucile a pompa dove l'ho lasciato il fucile a pompa dove ho lasciato il taser dove ho lasciato qualunque cosa dove ho lasciato il taser dov'è l'ho lasciato di sotto di fuori il taser è di sotto di fuori ok no 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 ma chi è ma dov'è ma dov'è dove sei dove cazzo sei il fucile a pompa l'ho lasciato da lui dove c'è quella merda ma cosa va a fare là cosa Cristo va a fare là ma perché vai là cosa stai andando a fare merda dove cazzo sono i colpi del fucile a pompa dai le ho accese le videocamere vieni vieni se c'hai il coraggio vieni signori l'abbiamo scampata bella signori miei ora sono morti tutti e due per un periodo un po' particolare quindi ricarico il fucile a pompa scendo di sotto a prendere la padlock e apro il padlock della porta principale lascio momentaneamente il fucile a pompa qua ok ok è un'uscita ce la siamo assicurata e questa è assicurata ci siamo ora andiamo di sopra e apriamo la porta dell'elicottero devo stare attento devo stare attento perché io sono all'ultimo giorno io sono all'ultimo giorno questi due potrebbero tirarmi uno schiaffo nelle natiche che me lo ricordo per tutta la vita prendiamo un po' di colpi del fucile ok lasciamo il fucile momentaneamente qua posso cadere non mi interessa tanto devo prendere devo prendere il fusibile devo prendere il fusibile dove era il fusibile adesso non me lo ricordo dove era il fusibile ok il fusibile è qua ok perfetto allora mettiamo il fusibile e apriamo ma cosa 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 è successo cosa Cristo Dio è successo no vabbè ma non è neanche in grado di salire le scale questo qui veramente questo qui è è un mentecatto questo qui è storto ma come fai a sopravvivere in situazioni simili allora le granate le granate le granate molto bene no vabbè ma è già respawnata ma è già respawnata ok non è qua davanti alzati veloce devo andare a sparargli dove sei maledetta maledetta manca solo il nonno a cui sparare dov'è il nonno dov'è il sargente è di sopra che sta piangendo davanti al cadavere di sua moglie boom morto anche il nonno perfetto perfetto ora lascio il fucile momentaneamente qua prendo lo scotch e vado a riparare l'elica dell'elicottero se me lo fate fare perché ci sono i morti in mezzo alle scale non riesco a salire le scale perché ci sono i morti ho fatto una strage ok riparo l'elica dell'elicottero ok perfetto e l'elica è riparata ora scendo nuovamente vado a mettere il volante e prendo su la benzina ce la devo fare ce la devo fare ce la devo fare ce la devo assolutamente fare ce la devo cazzo fare è una missione impossibile ma questa io so che ce la farò so che ce la farò sono fiducioso se ce la faccio signori miei questa è una cosa epica è epica questa situazione è epica è incredibile è madornale è qualcosa di irreparabile ora la chiave della barca non la devo mettere nella barca perché se la metto scappo dipende se voglio scappare con la barca o con l'elicottero io avrei intenzione di scappare con l'elicottero proprio per una questione di rivalsa verso l'ultimo episodio che non ci siamo riusciti no io spero che non siano respawnati sono già respawnati cosa cosa cazzo stava facendo cosa cazzo stava facendo che cazzo faceva lì dietro cosa no credo che questo gioco signori miei sia estremamente buggato guardate questo com'è conciato con le pezze nel sedere con le pezze nel sedere ma non ti vergogni di esistere di far parte di questo mondo di respirare la mia stessa aria ma non ti vergogni ok signori devo mettere la benzina nell'elicottero cosa no ma ditemi ditemi che questo gioco non è estremamente buggato ma cosa fa ridere sta situazione fa ridere fa ridere ma perché non posso metterla perché la lascio momentaneamente lì allora visto che qua ci sono le bombe io ho un'idea io ho un'idea vabbè dai ma cos'è adesso li attirerò tutti e due qua appena saranno tutti e due lì sotto tirerò una bomba tirerò una bomba e li farò esplodere ma no vabbè dai no 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 ma ste bombe non servono a un cazzo cioè ma che mira c'hai veramente c'hai una mira che fa fa ridere i polli ma cos'è ma com'è possibile che non riesco a tirare una bomba dentro un buco che è grosso come l'elicottero ma com'è possibile ok questo l'elicottero sappiamo attualmente che è completamente inutilizzabile quindi tutto quello che farò io in questo momento con l'elicottero è portare la chiave di sopra lasciare la chiave di sopra e scappare con la barca perché con l'elicottero non si può scappare è appurato alzati in piedi velocemente alzati 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 adesso la nonna devo sparare alla nonna dov'è la nonna ok ok no dove era la chiave dell'elicottero non me lo ricordo ma com'è possibile che mi dimentico sempre dove sono le cose ma sembra che lo faccio apposta signori ma io veramente non mi ricordo dove sono le cose avrò un problema con la memoria a breve termine per fo no no non è possibile no ma non è possibile ma non è possibile ma non è possibile ma non è possibile ma questa cosa è assurda cosa 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 sarebbe appena successo cosa sarebbe appena successo no veramente questo è va oltre va oltre tanto oltre tanto oltre le mie conoscenze questo va tanto oltre le mie conoscenze signori veramente questo va va oltre l'evoluto va oltre ogni limite dell'esistenza umana questo gioco è un bug questo gioco è un cristo dio di bug questo gioco è un bug è una cosa è una cosa incredibile ma come fa ad essere così buggato sto gioco ora io riprovo a mettere la gasolina e se la gasolina non ci entra lascio tutto là davanti prendo le mie cose e me ne vado con la barca potrei scappare con l'elicottero è comparso il simbolo che posso scappare con l'elicottero a quanto pare lo posso fare a quanto pare è nelle mie corde farlo non sono respawnati vero fa che non sono respawnati ti prego allora io non rischio una partita della madonna per provare a scappare nuovamente con quello schifo di elicottero quindi io prendo la mia botkey e me ne vado con la mia cazzo di barca ma siete seri ma siete seri ma siete seri o state scherzando ok il nonno ancora non c'è dov'è la botkey eh c'è anche il nonno minchia pensa se andavo di sotto con la botkey e mi arrivava sto stronzo di merda pensa se io andavo di sotto con la botkey e arrivava sto stronzo io adesso vi mando tutti e due a fare in culo vi mando tutti e due a cagarvi addosso prendo la mia barca e me ne vado prendo la mia barca e me ne vado signori 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 questo è un miracolo signori miei qualcosa di assurdo è successo quest'oggi siamo riusciti a completare tra virgolette tutte e tre le escape in una sola run su granny capitolo 2 che dire signori io direi che questo video si merita almeno 150 like perché siamo riusciti in un'impresa incredibile mi raccomando lasciate un commento con scritto cosa ne pensate di questa escape assurda e soprattutto se volete che io riprovi anche a scappare con altre possibili escape cioè la porta e magari chissà pure con l'elicottero ma soprattutto non dimenticate di iscrivervi a questo orribile canale io vi saluto e ci si becca al prossimo video addios grazie a tutti Grazie.